Ora riposa in pace Rita Talamelli, la donna uccisa dal marito Angelo Sfuggiti in seguito ad una convivenza che a causa della sua malattia era diventata insostenibile. Oggi si sono celebrati i suoi funerali nella chiesa di San Pio X, la parrocchia nel cui territorio rientra la casa dei coniugi che si trova in via Montefeltro. A celebrare il rito funebre è stato il parroco Don Giovanni Frausini. La chiesa insieme a una folla di persone che ben conoscono la famiglia di Angelo è convenuto anche il sindaco Massimo Seri che con la sua presenza ha voluto attestare il cordoglio di una città che continua ad interrogarsi su quanto avvenuto. Pur nella gravità della tragedia che si è consumata infatti nessuno se l'è sentita di pronunciare una condanna. Angelo e Rita sono due vittime di un dramma che la vita ha riservato loro, infierendo su entrambi con un destino crudele rispetto al quale ogni resistenza è stata vana. Lei colta da una malattia di mente che è sfociata in comportamenti che hanno reso difficile la vita a tutta la famiglia. Lui costretto a subire il peso di un'assistenza troppo onerosa per chiunque che alla fine è sfociata in quell'atto inconsulto. Poteva essere una carezza perché Angelo nonostante tutto Rita l'amava ma si è trasformata in una morsa agghiacciante che non si è allentata finché Rita non è rimasta esanime. Accanto al sindaco ha seguito alla funzione Carla Luzzi, consigliera comunale della lista civica in comune e presidente della terza commissione welfare di comunità che si è fatta partecipe del dolore della famiglia individuando in essa un'istanza di valore sociale. Nessuno dovrebbe essere lasciato solo ad affrontare simili situazioni. Della famiglia poi non è mancato nessuno, il fratello di Angelo Marziano, i figli Luca e Stefano, le cugini di Rita e poi gli amici conoscenti. Non bastano le parole, ha detto Don Giovanni durante l'omelia, per capire quanto è avvenuto. A volte ciò che accade proviene per vie imperscrutabili, ma questo non deve farci perdere la speranza perché Dio è sempre presente ed è che ci dà la forza per andare avanti. Dio a qualunque prezzo ci vuole bene e questo rappresenta una forte consolazione. Davanti all'altare il feretro coperto da un cuscino di fiori. Alla fine della messa l'abbraccio ai parenti, poi l'ultimo viaggio verso il vicino cimitero di Via Giustizia dove Rita Talamelli troverà riposo sottoterra. Ma il dramma purtroppo non finisce qui. Ora tocca ad Angelo, dopo aver tentato di togliersi la vita, a trovare la forza di andare avanti, affrontando tutto ciò che la giustizia deciderà per lui. Il dramma continua.